Volontari davanti a molti supermercati della Diocesi di Frosinone, Ferentino e Veroli sono andati lì dalle prime ore del mattino per raccogliere prodotti alimentari che poi saranno affidati alla Caritas e distribuiti alle famiglie del territorio che ne hanno bisogno affinché anche loro passino un Natale con qualche preoccupazione in meno. La colletta alimentare è promossa proprio dalla Diocesi che qualche giorno fa ha anche illustrato i numeri del rapporto Caritas 2015. 880 le persone che si sono rivolte ai centri di ascolto con i servizi che hanno raggiunto ben 2359 persone che soffrono la povertà ed il disagio. Il 65% di loro è italiano. Quasi 650 famiglie hanno ottenuto degli aiuti economici di piccola entità per far fronte a bisogni urgenti. Il 63,5% non riusciva a comprare cibo da mettere sulla tavola mentre nel 31,8% dei casi gli interventi sono serviti ad evitare il distacco di luce, gas o acqua. In una situazione così si comprende bene la necessità di fare la propria parte, di aiutare anche solo con qualche euro, mettendo qualcosa in più nel proprio carrello della spesa, donandolo poi ai volontari che si trovano fuori dal supermercato. Quei prodotti non andranno lontano, raggiungeranno le famiglie del territorio che vivono queste condizioni di disagio e che forse, anche grazie a quelle buste della spesa, viveranno le festività con qualche gioia in più.